Spopolamento è uno dei nemici di questa terra, sicuramente però è quello più importante attualmente perché le persone che sono andate via sicuramente sono persone giovani, menti anche brillanti che purtroppo non trovano spazio qui nella nostra Irpinia. Un fenomeno che sta coinvolgendo l'intero mezzogiorno ma che nelle aree interne risulta più accentuato a causa delle aziende che chiudono della mancanza di infrastrutture e la difficoltà nella mobilità. Lo spopolamento ha portato via dall'Irpinia oltre 7.000 persone in 7 anni, per lo più giovani. Ma come si combatte lo spopolamento? Lo abbiamo chiesto al sindaco di Flumeri, Angelo Lanza, e al professor Davide Bubico, docente di sociologia economica all'Università di Fisciano. Uno dei modi per combattere lo spopolamento è quello di riattivare le aziende attualmente chiuse per problemi di carattere generale o di carattere economico. Ma sicuramente attivare le produzioni, riaprire i cantieri, fare in modo che le opere iniziate non vengano bloccate e quindi vengano portate a compimento è una delle possibilità che abbiamo per evitare che la gente parta da questi territori per andare a cercare lavoro altrove. Il problema delle aree interne naturalmente è un problema che riguarda soprattutto la sostenibilità in termini di opportunità economiche e di opportunità lavorative. Il problema è che abbiamo una carenza di politiche pubbliche, sia regionali che nazionali, realmente a sostegno delle aree interne. Poi abbiamo un problema che quando si chiude una grande fabbrica come quella di Valle Ufida, per intenderci, da anni che si parla di reindustrializzazione, il risultato è che se queste reindustrializzazioni non sono immediate, nel corso del tempo è difficile realisticamente immaginare una ripresa produttiva di quei siti. Sarebbe importante, ecco, questo si potrebbe fare, fare una mappatura delle imprese esistenti, rafforzare quelle imprese che hanno resistito sul territorio, aumentare le opportunità per la filiera industriale e per la filiera agricola, considerato che qui siamo in un territorio con una forte vocazione agricola, quindi partire dall'esistente e cercare, casomai, di aggregare e potenziare quello che c'è oggi in termini di presenza produttiva e penso anche qui al tessuto agricolo e a tutta la filiera di ciò che significa la filiera nel settore agricolo, in termini di ricettività, turismo.